Asse congiunto tra le banche e la camorra. Le due roccaforti del potere, l'una economica l'altra del controllo territoriale o plontino, erano legate da una rete di interscambi di favoritismo clientelare, oltre che da personali rapporti di fiducia. A svelare gli altarini il blitz Pandora, portato brillantemente a termine da polizie e carabinieri la scorsa settimana. Un'operazione che getta di nuovo nel caos l'organizzazione criminale dei Galloli Melli Vangone, mischiando ancora una volta le carte in tavola di una vicenda di perseggia intrisa di molti punti non ancora chiari e di numerosi misteri. Così nel giorno dell'interrogatorio di Giuseppe Gallo emergono diversi altri particolari sulle operazioni economiche del clan. Le accuse infatti della direzione distrettuale antimafia sono alquanto nette. Si tratterebbe di riciclaggio di denaro grazie a personali conoscenze nella sede filiare dell'Istituto di Credito Bancario San Paolo Imi, sita in Viale Manfredi a Torre Annunziata. Nel dettaglio la banca costituiva un punto d'appoggio importantissimo per la cosca camorristica, che attraverso la conoscenza dell'impiegata Paola Renis sarebbe riuscita tra il 2004 e il 2005 a cambiare milioni di euro. Era infatti proprio il cambio l'operazione fondamentale di cui il clan aveva fortemente bisogno. Intere valigie ricolme di banconote dal piccolissimo taglio circolavano in decine di filiari del prestigioso istituto bancario dell'intera area vesuviana e ritornavano al mittente nettamente snellite contenendo all'interno pezzi da 500 euro, molto più semplici ed agevoli da trasportare nei viaggi d'affare in Spagna, dove mediavano con i narcos colombiani. Ma la banca prediletta dal capo della cupola oplontina era solo quella di Viale Manfredi, all'interno della quale Paola Renis, impiegata, si preoccupava di dare le dritte giuste alle due sorelle del boss, con le quali concordava giorni ed ore in cui recarsi all'istituto di credito ed effettuare favorevoli cambi. La mola del lavoro variava dai 10.000 ai 90.000 euro. Una serie di connivenze, così poi come svelato dalle rivelazioni dell'imprenditore Antonio Maresca, vittima, complice ed accusatore del padrino, nelle quali risulta implicato anche il direttore del Banco di Napoli, a Torre Annunziata, che spesse volte si sarebbe servito di parte di quel denaro per caricare il Bancomat soprattutto nei fine settimana. Ma ci sarebbe ancora di più. Nella stessa sede dello sventurato Viale, sempre tra il 2004 e il 2005, erano stati aperti due conti, l'uno intestato alla Flash Catering, la società dello stesso collaboratore di giustizia, e l'altro intestato a sua moglie, sui quali sarebbero stati versati fiumi e fiumi di denaro. Ciò è quanto può leggersi nelle oltre 2.000 pagine di ordinanza contro la cosca Galloli Melli Vangone, graziata dai giudici Paola Remis, per la quale le stesse toghe nere hanno respinto la richiesta di carcerazione avanzata dalla Progura. In soli due mesi con questo sistema, secondo le intercettazioni telefoniche e le ricostruzioni della DDA, il clan avrebbe trasformato circa 206.000 euro. Un riciclaggio puro ed assoluto, anche perché i continui cambi avrebbero impedito di comprendere qualsiasi provenienza illecita che potrebbe essere determinata attraverso il controllo dei numeri seriali.